Allora, taglio un po' d'alio, un po' d'olio nella pentola, olio d'oliva, un po' d'oliva. C'è una storia che dice che il carciofo è il vero piatto del povero, perché ce n'è più del piatto dopo che hai finito, che prima di incominciare. Taglio un po' di foglie, tavola di gambo, taglio la barba, e l'Italia, pezzettini molto fini, io le metto in un po' di morcello molto finito, e poi le metto in un po' di acqua, tolgo la barba il gambo va pulito il gambo è buonissimo le pied est très bon, il faut juste le nettoyer je vais couper en rondelles je monte un petit peu de poivre un petit peu de sel un petit peu d'eau, un peu d'acqua, appena un peu d'acqua, appena l'olio inizia a friggere un peu d'acqua un peu d'acqua un petit peu d'acqua un petit peu d'acqua un petit peu d'acqua si cuoceranno con il calore e il vapore